Sempre su mozione del consigliere del Partito Democratico Patrizio Sciripodi quella che riguarda la stazione, c'è bisogno di un intervento di restyling completo della stazione, è d'accordo Roberto Rottaglio? Ma io sono d'accordissimo, quello che non mi sono mai spiegato, perché l'hanno fatto nel 2005? Ma era il problema? Perché non gli hanno concesso il permesso a costruire, per cui non poteva iniziare la stazione. E' ovvio che la stazione dopo 24 anni, il mondo è cambiato, è inutile fare un centro commerciale, è inutile fare spazi commerciali se non quelli della somministrazione, va fatta sicuramente una stazione come l'hanno disegnata loro, solo per i croceristi, perché intanto il volume di croceristi rispetto al 2004 abbiamo un porto diverso, che rientra nei primi dieci porti, per cui a livello internazionale. Ecco perché va fatto, solo che quando tu vai a fare un accordo, una variazione su un accordo del programma, c'è il Comitato di Vigilanza, intanto il Comitato di Vigilanza dopo 24 anni qualcuno è morto, qualcuno non c'è più, bisogna rifarlo. La Regione ha dato il suo nome a settembre, è stato istituito, già. È stato istituito, adesso loro devono fare una variazione sull'accordo del programma, una nuova variante, se necessaria, penso che sia necessaria, e rifare l'IDER, che diciamo essendo di interesse pubblico lo portiamo a casa in 4-5 mesi. Lei ha detto anche una data, no? Settembre 2013. Io penso che se corriamo a settembre si potrebbero iniziare i lavori per vedere l'ultimato dopo un anno e due mesi, un anno e tre mesi.